Forse una richiesta di pagamento non avvallata, poi sfociata in pestaggio, forse un avvertimento legato alla sua attività di dirigente, continuano le indagini dalle forze dell'ordine sulla brutale aggressione di Mercolini scorso che ha visto come vittima il direttore amministrativo dell'Asli Brindisi, ma residente a Lecce Stefano Rossi, pestato a sangue a pochi metri dall'ingresso di casa. I malviventi prima lo hanno bloccato e poi a mani nude, a suon di calci e pugni, lo hanno picchiato prima di lasciarlo a terra in una pozza di sangue. Gli inquirenti si starebbero concentrando sulle attività che Rossi stava seguendo in questi giorni. Nel dettaglio una precisa opera di verifica di centinaia di richieste di pagamento da parte dei fornitori dell'Asli. In sostanza il compito del direttore era quello di verificare la legittimità delle richieste di pagamento e proprio in questo lavoro si ricerca la causa dell'aggressione a Rossi che, secondo quanto trapela dagli uffici Asli di Via Napoli, avrebbe nei giorni scorsi escluso dal numero dei pagamenti le richieste arrivate da alcune società. Una cosa comunque certa, non è la prima volta che un altro dirigente dell'Asli Brindisi riceve minacce. Lo scorso 29 gennaio l'auto dello stesso Rossi, parcheggiata nei pressi della sede amministrativa dell'Asli di Brindisi, fu danneggiata da alcune fiamme sprigionate nel pomeriggio. All'epoca i vigili del fuoco non trovarono tracce che potessero accertare il dolo e il caso fu archiviato come cortocircuito. Quelle fiamme oggi però sembrano avere una chiave di lettura ben diversa. Da registrare anche l'avvertimento del direttore generale Paola Ciannamea, destinatario allo scorso 18 giugno, di una busta contenente proiettili. Tutti episodi che denunciano pressioni sulla sanità pugliese, tutti avvertimenti presunti su cui ora si focalizza il dibattito. Politica e sindacati all'unisono chiedono sia fatta chiarezza.